Anche il bollettino Covid della domenica fa registrare un alto numero di nuovi contagi accertati. Ci sono 393 positivi. Di questi 97 originano da tamponi molecolari refertati dalla ASREM, in totale 566. Gli altri 296 positivi sono quelli censiti a seguito dell'inserimento nel bollettino dei tamponi antigenici effettuati nelle farmacie e nei laboratori autorizzati. Il tasso di positività considerati tamponi molecolari è di poco superiore al 17%. Sul fronte ospedaliero ci sono tre nuovi ricoveri da Campobasso Termoli e Sessano del Molise, ma anche tre dimissioni da reparto di malattie infettive del Cardarelli. Restano 30 i pazienti che devono curarsi nella struttura ospedaliera di Campobasso. Di questi 14 sono i non vaccinati, 7 vaccinati con seconda dose otoseunica, 9 vaccinati con terza dose. Nel bollettino anche 10 guariti. Le attualmente positivi regione salgono a 4.711. Quanto ai contagi nei comuni, 60 casi a Campobasso, 47 a Benafro e da segnalare 25 casi a Campochiaro.